Buongiorno bambini! Oggi andiamo avanti a studiare le misure. Affronteremo le misure di superficie che in realtà noi abbiamo già visto tantissime volte a geometria perché noi utilizziamo le misure di superficie ogni volta che calcoliamo l'area di una figura di un poligono e noi le abbiamo calcolate tante, vero? Cosa facciamo quando calcoliamo l'area? Noi diciamo sempre che l'area è il numero dei quadratini che compongono l'interno di quella figura. Ma che vuol dire vediamolo meglio? Perché noi quando calcoliamo l'area, vi ricordate, io vi dico sempre, mettete l'unità di misura. E qual è l'unità di misura? Centimetri quadrati, decimetri quadrati, non metri o centimetri. Ci vuole sempre questo quadrati e oggi scopriremo che cos'è. Infatti anche le misure di superficie hanno una sua unità di misura fondamentale che vediamo qui. Quindi è il metro quadrato. Ma cosa sarà questo metro quadrato? Noi abbiamo visto, conosciamo il metro, cioè una lunghezza stabilita, un metro, che ci dà la possibilità di misurare anche tutte, di misurare tutte le cose che noi vogliamo, sulla base di quanto sappiamo che è un metro. Ma un metro quadrato è cos'è? Eccolo qua. Un metro quadrato è questo. Non è altro che, come dice il nome, un quadrato di un metro per un metro. Ecco qua il metro quadrato. Avete presente quando ci sono gli annunci delle case? Questa casa è cento metri quadrati. Quanto è grande il pavimento di quella casa? Quanto misura? Misura cento di questi. Cento metri quadrati. Cento metri quadrati. Certo che, come tutte le unità di misura, come tutte le misure, anche il metro quadrato ha i suoi sottomultipli e i suoi multipli, che si chiamano decimetri quadrati, centimetri quadrati, millimetri quadrati, i sottomultipli e i multipli, decametro quadrato, ettometro quadrato e chilometro quadrato. Ma il metro quadrato l'abbiamo conosciuto. Quanto sarà un decimetro quadrato? Cosa sarà il decimetro quadrato? Torniamo indietro al metro. Il metro è questa lunghezza. L'altra volta noi abbiamo detto che il decimetro è un decimo del metro. Quindi, questo pezzetto era un... questo pezzetto, questa lunghezza era un decimetro. Per cui, cosa sarà un decimetro quadrato? Beh, un decimetro quadrato ve lo presento subito. Non sarà altro che un quadrato di un decimetro per un decimetro. E allora, dentro un metro quadrato, quanti decimetri quadrati ci staranno? Beh, di sicuro non dieci. Vi ricordate? Nel metro ci stavano dieci decimetri. Nel metro quadrato, se in una riga ce ne sono dieci, ce ne stanno cento. Quindi, attenzione! Un metro quadrato non è dieci decimetri quadrati, come era un metro dieci decimetri, ma attenzione! Sono cento decimetri quadrati. Vediamo, andiamo avanti. L'altra volta, il decimetro quadrato l'abbiamo diviso in altre dieci parti, perché un decimetro, quanti centimetri sono? Dieci. Ma, un centimetro quadrato, allora cosa sarà? Sarà un quadrato di un centimetro per un centimetro. E quanti centimetri quadrati ci staranno in un decimetro quadrato? Vediamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. In verticale? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Quanti ce ne saranno? Dieci per dieci ce ne sono cento, per cui, attenzione! Un decimetro quadrato non sono dieci, ma sono cento, cento centimetri quadrati. E allora, attenzione! È cambiato qualcosa rispetto a prima. Cos'è successo? Come ho fatto a passare da un metro quadrato ai decimetri quadrati? Ho moltiplicato per dieci? No, ho moltiplicato per cento. Per cui, per passare da una casellina adesso non si moltiplica più per dieci, nelle misure di superficie, ma si moltiplica per cento e per fare due salti moltiplierò per cento e poi di nuovo per cento, quindi per diecimila e così via. E la divisione sarà lo stesso. Quando devo andare verso sinistra, verso i multipli, dividerò per cento per fare un salto, dividerò per diecimila per fare due salti e così via. Vogliamo fare un esempio? Vediamo. Prendiamo, ad esempio, questo rettangolo. Allora, qui è già diviso. Quanti decimetri quadrati, ma guardiamo lo stesso, quanti decimetri quadrati ci sono in questo rettangolo? Uno e due. Quindi, questo rettangolo, l'area di questo rettangolo è due decimetri quadrati. Uno e due. Ritorna? Quindi, l'area è uguale a due decimetri quadrati. Se io volessi dire quanti centimetri quadrati è quest'area, come faccio un decimetro quadrato? Ecco qua la divisione in centimetri. Questi avevamo detto che erano cento e questi altri cento. Quindi, duecento centimetri quadrati. Vogliamo fare l'equivalenza per vedere se è vero? Vediamo, due decimetri quadrati è uguale a quanti centimetri quadrati? Siamo a decimetri quadrati. Devo fare un salto, quindi devo moltiplicare per cento. Due per cento fa duecento centimetri quadrati. Esattamente come sosteneva il nostro disegno. Vogliamo provare a portare questi due decimetri quadrati in metri quadrati? Proviamo! Due decimetri quadrati uguale a quanti metri quadrati? Siamo a decimetri quadrati. Devo tornare indietro, quindi devo dividere di quanto? Ho solo una casella, quindi per cento. Due diviso cento. Vediamo un po'. Due diviso cento. Quanto fa? Uno e due. Qui metto lo zero, metto la virgola e un altro zero. Zero virgola zero due metri quadrati. Vedete? Ho fatto un solo passo indietro, ma ho spostato la virgola due volte, oppure ho tolto due zeri. O, detto ancora meglio, ho diviso per cento. Capite come funzionano le misure di superficie? Adesso andiamo ad allenarci. Buon lavoro!